È il 198esimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno del cancro. La chiesa ricorda la beata vergine del Carmelo. L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Carmelo e Carmela, anche nelle varianti Carmine-Carmen. Il numero porta fortuna è l'otto, il colore è il giallo e la pietra associata il topazio. Accadde oggi. Il 16 luglio del 1965 viene inaugurato il traforo del Monte Bianco alla presenza di Giuseppe Saragat e Charles de Gaulle, presidenti di Italia e Francia. Chi è nato oggi? Tra i personaggi famosi nati il 16 luglio ricordiamo il cantautore Eugenio Finardi e il ciclista spagnolo Miguel Indurain. La citazione del giorno. Il superfluo dei ricchi dovrebbe servire al necessario dei poveri e invece il necessario dei poveri serve al superfluo dei ricchi. Jean Domingue. Dice il saggio. Ricorda che quando punti il dito per condannare qualcuno, tre dita rimangono puntate verso di te. Il bel paese. Aglie è un piccolo borgo a pochi chilometri da Torino che ospita una delle residenze reali del Piemonte, dal 1997 riconosciute patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Il castello ducale di Aglie è una splendida residenza circondata da un parco con alberi secolari e grandi serre. Conta oltre 300 stanze che ospitano collezioni e arredi preziosi, dai quadri ai reperti archeologici, fino a sorprendenti raccolte ornitologiche e orientali. Il salone da ballo affrescato e la successione di ambienti d'epoca perfettamente conservati rendono il castello assolutamente degno di una visita.